E poi vi porto a parlare anche dell'Italico, vi faccio sentire le reazioni di ieri, però vorrei prima parlare della scuola, visto che per tre giorni non ci siamo occupati di scuola e rischiamo che saltino le assunzioni. Io penso e temo che oltre a essere pericolosa questa riforma di Renzi sia velleitaria, perché un premier con tanti poteri, senza una grande burocrazia efficiente, e non ce l'abbiamo purtroppo, è un premier che lo costringono a far pasticci. Per esempio sulla scuola siamo riusciti nel miracolo di riunire tutte le categorie diverse della scuola in uno sciopero generale contro il governo, mi pare una prova di inefficienza assoluta, e perché? Perché non ci possiamo più fidare dei ministeri, dal mio ora degli altri, non funzionano. Abbiamo visto cosa succedeva con Incalza da un'altra parte, perché l'Italia è un paese che ha bisogno di democrazia, non come gioco, perdita di tempo, ma come coinvolgimento delle persone. Se noi problemi non si risolvono.